Valentina Di Cesare Ma l'amore per le sue radici e la voglia di raccontare la vera identità della sua terra l'hanno spinta a realizzare un documentario dal titolo The Wasteland, la terra desolata, attraversando sette comuni della valle subequana. The Wasteland è il titolo di una celebre opera di Thomas Elliot e in traduzione The Wasteland significa la terra desolata. Ho pensato di intitolarlo così quando ho partecipato con questo documentario al concorso internazionale di videogiornalismo dedicato alla giornalista scomparsa Ilaria Alpi, perché appunto era il titolo più adatto per la zona su cui ho realizzato il documento, cioè la valle subequana, che poi è la zona da dove provengo. Io sono di Castel di Ieri ma ho parlato di tutti gli altri paesi che ne fanno parte. Il documentario si struttura intorno a tre argomenti principali, lo spopolamento dei comuni, i disagi legati ai trasporti, le problematiche dei giovani e degli anziani che ogni giorno vivono con la consapevolezza che il loro territorio sta morendo. Si tratta appunto di sette paesi che si ritrovano praticamente tagliati fuori da moltissime cose, sia dal punto di vista dei trasporti, sia ferroviari che insomma con le tratte degli autobus. C'è stato un grande spopolamento che l'ha interessato la zona a partire dall'inizio del Novecento, come comunque è successo in tutto il meridione. Però in particolare nelle nostre zone dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stato uno svuotamento incredibile, cioè si è passati da un mille e mille cinquecento abitanti a seicento praticamente con niente. E quindi in questo documentario ho rintracciato le cause storiche principalmente, ma soprattutto ho voluto far parlare alle persone, ho voluto che le persone e la gente comune dessero la loro opinione, la loro versione dei fatti. L'aspetto più interessante del documentario però risiede nell'analisi che la stessa autrice ha sottolineato quando le abbiamo chiesto le ragioni che l'hanno spinta a realizzare autofinanziandosi questo progetto. La mia idea è stata quella di far vedere che anche nelle nostre zone che sono sconosciute e sono spesso legate esclusivamente a degli ideali bucolici, quasi come se tra quelle valli vivessero soltanto bifolchi, mezzatri, contadini che non fanno altro che partecipare a cerimonie religiose oppure sparare a cinghiali, a volpi. Invece ho pensato che fosse utile per una volta parlare delle esigenze delle persone di quelle zone lì, perché anche io sono una persona di lì e come me e tantissime altre persone della mia età, noi abbiamo le stesse identiche esigenze degli altri, la stessa identica formazione, quindi non è un discrimine essere nati lì, sicuramente è molto più difficile, però non è un discrimine. La giovane videoreporter con il suo lavoro ha sottolineato anche un problema di cui noi giornalisti per primi facciamo fatica a parlare, e cioè il precariato e lo sfruttamento in cui molti di noi si trovano a lavorare e l'impossibilità di vivere dignitosamente praticando la sola professione giornalistica. Sembra quasi però che reclamare un proprio diritto sia un atto sovversivo che vada a distruggere gli equilibri inerti di un territorio cataputtato fuori dal tempo.